Il forno in popolese Dopo la vittoria conseguita alla Mugello sette giorni fa Conquista anche il gradino più alto del podio Al Montpeno, in Catalogna, il servizio Un fantastico Andrea Dovizioso conquista la vittoria Con una grande strategia di gomme Michelin a Barcellona La Desmo 16 della Ducati chiude davanti alle onde di Marquez e Pedrosa Rovinando così la festa spagnola Partito settimo, il forno in popolese nei primi giri Era riuscito ad agguantare la quarta posizione Per poi compiere la scalata da terzo fino al leader della corsa A nove tornati dal termine Dietro la bagarre tra lo spompato Pedrosa e Marquez Ha favorito il Romagnolo E grazie al distacco conseguito Ha terminato con serenità la gara del Montmelò Valentino Rossi, scattato dalla tredicesima piazza Ha fermato la rimonta all'ottavo posto Sono contentissimo ma anche un po' sorpreso da questa vittoria Ha dichiarato a fine gara il Romagnolo Avevo un ottimo feeling prima della partenza Perché sapevo che potevamo essere molto competitivi Continua, non tanto perché eravamo più veloci in pista Ma piuttosto perché in qualifica avevamo lavorato bene in ottica della domenica È stata una gara di strategia, conclude il numero 4 Siamo stati molto bravi In classifica generale Dovizioso si avvicina a solo i sette punti da Vignales In giornata nerissima che rimane a quota 111 Per il pilota Ducati si tratta della seconda vittoria consecutiva dopo il Mugello Ma è accaduto prima ed in carriera sale a 13 successi complessivi nel moto mondiale E conferma il tren positivo anche Mattia Pasini in moto 2 Il riccionese ha raggiunto il secondo gradino del podio dietro ad Alex Marquez Continua a festeggiare Mattia Pasini dell'Ital Trans Racing Team anche in Catalogna In un moto 2 dopo la vittoria strabiliante al Mugello Il riccionese agguanta un secondo posto preziosissimo al Montmelò Con Luti terzo a seguire Alex Marquez fa gara a sé in una domenica senza troppe schermaglie E vince davanti ai propri tifosi Per il pilota Romagnolo la cui scelta di partire con gomme a mescoladura premiato È un grande momento ed arrivano altri punti pesanti Che lo proiettano a quota 69 al quinto piazzamento mondiale Continua invece il momento nero per il riminese Stefano Manzi Per il centauro dello Sky Racing Team VR46 l'ennesimo ritiro a 8 giri dal termine In moto 3 trionfa Mir seguito da Fenati e Martin Portacolori del Gresini Racing di Faenza Sfiore il podio Enea Bastianini quarto Sono stati i protagonisti di una grande rimonta Dopo la partenza dalle retrovie per una penalizzazione combinata in qualifica Migno e Bulega Il vincitore del GP del Mugello ha fermato la sua corsa al settimo posto L'Emiliano al nono seguito da Antonelli undicesimo Entra nella zona punti riminese Marco Bezzecchi col team Chip Mahindra quattordicesimo Parliamo adesso di ciclismo La terza tappa del Giro d'Italia Under 23 Ha completamente stravolto la classifica di questa manifestazione Con Sivakov che ha detronizzato l'americano Paulus Prendendosi la maglia rosa sul traguardo di Forlì Oggi la carovana rosa si trasferirà a Gabice In una tappa più adatta ai velocisti Vediamo Cambio della guardia al Giro d'Italia Under 23 La tappa da Bagnara di Romagna a Forlì Ha scombussolato tutti gli equilibri di classifica Con la maglia rosa che si è trasferita dalle spalle di Nelson Paulus A quelle del figlio d'arte Pavel Sivakov Il russo ora è al comando della graduatoria Ma di un'incollatura su Mark Padun e Lucas Hamilton In effetti la classifica generale rispecchia in maniera sufficientemente fedele Quello che è stato anche l'ordine di arrivo della terza tappa Molto selettiva con ben 5 salite concentrate negli ultimi 85 km di gara La più dura di tutte L'ultima a rocca delle camminate È lì che l'azione di forza del gruppetto di fuggitivi ottiene gli effetti sperati Piegando la resistenza di Paulus e dando la stura alla rivoluzione in classifica generale Alla fine, sul traguardo di corso della Repubblica, è Padun a festeggiare la vittoria di tappa All'Ucraino del team Kolpak non serve neppure prendere la ruota dei propri rivali Per beffarli di prepotenza ed ottenere una splendida vittoria La testa della corsa però se la prende Sivakov Battuto in volata, ma adesso nuova maglia rosa E soddisfatti a fine corsa i due grandi protagonisti della tappa forlivese Appunto il russo Sivakov, ma anche il vincitore di giornata Padun Una prova di resistenza per Sivakov a questa terza tappa del Giro d'Italia Under-23 Che lo ha incoronato nuovo leader della classifica generale Per il russo un risultato forse inatteso, ma frutto di un'autentica azione di forza È stata una giornata dura e molto calda In una tappa con 5 Gran Premi della montagna Tutto questo si è fatto sentire, specie negli ultimi chilometri Hamilton ha cercato di rompere gli schemi Ma sono rimasto assieme a lui Ed alla fine è andata bene La maglia rosa non era il mio obiettivo principale Mi sembrava difficile da raggiungere Nell'ultima salita però ho visto Powers in difficoltà E da allora ho pensato a rimanere con i migliori e finire nelle primissime posizioni Non ho vinto la tappa, ma sono riuscito a conquistare la maglia rosa Soddisfatto anche il vincitore di giornata L'ucraino Mark Padun Sì, era la tappa dura Prima di giro non mi aspettavo che sia la tappa dura Però già dopo la giornata che era ieri ho capito che Ogni tappa a questa gira d'Italia è dura Perché sono tutti i corridori fortissimi, più fortissimi in tutto il mondo E anche in pianura non mi alzo sotto da manubrio L'Orva Basket Lugo ha raggiunto la quarta promozione in Serie B della sua storia Col successo per 68-61 in una gara 3 feroce e ricca di emozioni Contro i New Flying Balls di Ozzano La formazione di coach Gianluigi Galletti è ritornata dunque nella categoria cadetta Dopo appena due stagioni di assenza La compagine Ravennate farà compagnia alle altre tre romagnole Krabs Rimini, Tigers Forlì e Raggi Solaris Faenza Ed ora si spera che la federazione italiana Pallacanestro Possa riunire tutti i club in un unico girone Ma dopo aver visto anche quest'ultima notizia Andiamo a vedere anche quelli che sono gli spunti di riflessione Che ci vengono offerti dai quotidiani in edicola Già a partire da questa mattina Ci spostiamo dunque sul Corriere di Romagna Apertura dedicata come potrebbe essere altrimenti Alla doppietta di Dovizioso Definita una Dovietta straordinaria Il Forlivese sbanca anche Monmelò Battendo gli spagnoli Marquez e Pedrosa E portandosi a meno 7 dal leader della classifica mondiale Maverick Vignales In moto 2 Grambel secondo posto per Pasini In moto 3 quarto invece Bastianini Altrettanto possiamo riscontrare anche sul QS Sport Anche qui un gioco di parole Dovizioso Delizioso Doppietta del pilota Ducati Dopo il trionfo al Mugello Mette in fila gli spagnoli a Barcellona Ora è a 7 punti come visto da Vignales E in piena corsa per il Mondiale Mentre invece Rossi fatica È solo ottavo Ma vediamo anche per quanto riguarda la Formula 1 La rimonta Show da parte di Sebastian Vettel Precipitato in 18esima posizione Ma va alla fine a sfiorare il podio La vittoria però è di Lewis Hamilton Che si avvicina in classifica generale Ma adesso andiamo ad ascoltarci anche l'opinione di Luciano Poggi Oggi bisognerebbe usare una sorta di parallelismo se vogliamo La vittoria di Andrea Dovizioso nella MotoGP con la Ducati Ecco il binomio e naturalmente le note dell'Ino d'Italia che si alzano in Spagna Ma attenzione perché a livello di regia c'era stato un piccolo errore E avevano addirittura messo per festeggiare questa vittoria Le note di Romagna Mia ma questo è un piccolo episodio Dove volevo arrivare? Volevo arrivare a questa sorta di parallelismo Perché c'è la grande vittoria di Dovizioso da una parte E c'è il momento forse più importante Della stagione calcistica per il Cesena Che si sta preparando E oggi ha visto finalmente la prima riunione tecnica fra Camplone Che sarà sicuramente il nuovo allenatore del Cesena E stamattina c'è stata la riunione Ancora non si sa nulla di ufficiale Ma nel corso della giornata verrà sicuramente ufficializzato Con Rino Foschi e con il presidente Giorgio Lugaresi E allora qual è la mia opinione? La mia opinione è che sia da una parte che dall'altra Si sta lavorando molto bene E che i frutti questa volta si vedranno di sicuro Si chiude così anche questa edizione di TR24 Sport Potete comunque avere maggiori informazioni sportive Cliccando sul portale tr24.it Vi ringrazio allora per averci seguito Arrivederci